salve guardate tutta rossa scarpe rosse zancca rossa e ora e ora vi leggerò delle cose che avevo scritte eccoci qua allora guardate questo il cielo è rosa le stelle sono rosse la mente è blu le emozioni sono morte il cammino è astro la tristezza è una scritta una scritta è una letra di tutte le cose c'è un perché diverso sulla stessa cosa per ogni occasione diverso poi vi leggerò un'altra cosa se ti abitui ai cambiamenti riesci ad accettare più cose e nessuno può toglierti la felicità che è niente tutti tutti hanno un cuore anche quelle persone fredde che si infatti sconosciuto e tu ti senti lasciato da parte quindi non c'è spazio non c'è spazio per chi ha diagno caldo per quelle fredde le persone calde forse ce ne sono poche ma sono quelle che non si infastidiscono per tanti messaggi che li invii anche se non ti conoscono o ti conoscono appena quelle che dà solo fastidio non c'è quindi a presto a presto a presto a presto